Ciao a tutti, sono Nazareno Polini, per chi non mi conosce, sono una guida ambientale escursionistica e spesso organizzo delle giornate per raccogliere le erbe buone da mangiare. Oggi ci troviamo nel mio giardino, è già primavera per molte piante e possiamo incontrare tantissime specie. Una delle piante, l'ho detto tantissime volte, che preferisco è lo sdricolo, la silene vulgaris, che praticamente riesce ad essere consumata in tantissimi modi e riesce a dare quel gusto molto particolare all'insalata, al pesto o al piatto che noi prepariamo. Riconoscerla da lontano, così in mezzo a tutte queste erbe, è difficile. Se voi vi avvicinate e soprattutto toccate la foglia della silene vulgaris, vedrete che il...